...due parole con tutti, grazie. Voglio che vi portiate tutti quanti e che vi ascoltiate bene. Adesso alzate le vostre mani in alto così. Tutte le tue mani. Accresce. E tu aggetti l'esplorazione. Bene, molto bene. Uno di noi, uno di noi, uno di noi, uno di noi, e l'abito di togliere, questa persona deve abbassare la mano per il sacro. Ah, ok, ok, bisogna dire che funziona. Bene, come lo vedo? A Scerifo Nesson abbiamo un codice 1028 su Nicole Ibert, il minimarket di una attenzione di servizio. Lo diciamo tutti. Allora ho preso una brutta volta in testa, per certe grazie scoliezioni e dietro, però si crea obiettivi di identità di cuore.